Che questa ordinanza è un nuovo lockdown diciamo che per stare leggeri fa sorridere, fa sorridere perché in realtà il passaggio non è intercluso nel senso che ci sono delle vie alternative quindi mi sembra invece che con il lockdown le persone erano rinchiuse in casa. E quindi ricordo al sindaco di Pove che se c'è un lockdown è stato quel lockdown che i cittadini della Val Brenta vivono da 50 anni rinchiusi nelle loro abitazioni con il traffico della statale 47 che impedisce loro di uscire di casa, di andare i bambini a passeggiare, di portarli in giro con il passeggino, con scarichi di gas che rende quel territorio una camera a gas e non un lockdown. Quindi io starei attento con certe affermazioni, dico semplicemente che noi ci siamo prestati al territorio, che abbiamo lasciato aperto la nostra viabilità anche se inadatta tentando di dare supporto a tutti. La strada non lo consente ma non perché lo dice il sindaco di Val Brenta ma perché è l'esito di un comitato fatto dal prefetto come previsto dalla normativa nazionale in cui si dice che quella strada è inadatta a sostenere quei volumi di traffico. Quindi questo è il tema.